Cosa sarà mai? Tirar fuori dai guai, un povero ragazzo. Io ho studiato al Dams. Eh sì, è per questo che reclami di cioccolatini. Ho io i cioccolatini giusti. Sommerso dalla mediocrità, assaggia i nuovi porchi scioffi alla merda e cioccolato fondente. Avete sentito che schifo? Cosa sarà mai? Tirar fuori dai guai, un povero ragazzo, figlio di operai. Grazie per la visione!